pr***chini e br***llo e dietro la sua video di Brawl Stars ragazzi siamo trovati su Brawl Stars dopo parecchio tempo perché? perché è uscita Meg! è uscita Meg ragazzi! nuovo brawler leggendario! not bad POD! Not bad bad ragazzi questa può essere trovata nelle casse, può essere trovata nelle casse la mia percentuale, ve la dico subito, la mia percentuale è...!! facciamo finta di sciopparci una cassa enorme è lo 0,4199 quindi è bassa però io ho tante ricompense e in più ho anche una ricompensa una mica cassa gratuita perché sennò costerebbe 699 gemme cioè 699 gemme facendo un calcolo breve sono all'incirca sono 40 euro circa cioè anche no quindi che facciamo noi? ragazzi spacchettiamo io spero di trovarlo io non so se lo trovo non è quello di fatto potremmo trovarlo spieghiamo nel frattempo c'è il microfono che è un po' storto me la tocchi la medusi? allora facciamo così iniziamo a toglierci le casse piccole le casse cicciotte mettiamo per dopo perché magari mi vale fortuna non lo so iniziamo a aprire un po' di casse piccole e vediamo io la voglio aprire tutte poi vuoi vedere la percentuale se si è alzato oppure no iniziamo a quelle casse brawl che non credo mi diano chissà cosa io sono tanto una cosa io vedo un uno schifino quello schifino lì che si vede qua no no di certo questo social i social sono giusti bricks direi di no gli alert box non credo webcam no webcam no ragazzi è bellissimo cioè queste cose qua in diretta sono le cose più non so cosa sia sto coso qua è più o meno qua sotto a sinistra se qualcuno di voi riesce a capirlo boh probabilmente sarà un bug un bug strano non fa niente non ciò perdo andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti che non stiamo facendo quello che devo fare devo trovare devo aprire le casse allora cassa brawl di nuovo dai andiamo avanti con queste cassette del pipa cassa brawl nada e nada cassa brawl dai nada niente di che nulla 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 ragazzi qua si trova un lampeggio per forse cosa mega perché non posso trovare nient'altro non ho possibilità di trovare né gadget né star power perché lo ho tutti quindi qua se c'è un questo è un bonus se c'è un lampeggio è quello eh allora ho finito le casse ho finito le casse io vorrei vedere se per caso mi si è alzato un pochetto si mi si alza mi si alza comunque però è bassa la percentuale cassa enorme dai allora prima cassa enorme per noi niente niente cassa enorme anche sopra niente cassa enorme ragazzi sta andando male 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 eh cassa enorme niente cassa enorme di nuovo dai bonus cassa enorme nada di nada nulla cassa enorme no cassa enorme di nuovo per noi niente di che cassa enorme ragazzi ma quante cassa ho già aperto nulla va bene no ma va bene la doppia gettoni cassa enorme nada cassa enorme nada va bene sta andando bene come c'è sto opening eh vacca di quella vacca dai cassa enorme niente mi sta venendo dai niente ragazzi ragazzi non lo shoppo quello sapete che io non lo shoppo perché non spendo 40 euro per un brawler lo trovo piano piano lo trovo ci metterò un due cesto opening non lo so però non lo voglio shoppare io onestamente aprirei le casse a nopri c'è la cassa gratuita dai cassa gratuita niente la doppia gettoni va bene va bene ho ancora 16 16 dovrebbe essere ho detto male 16 dai mega cassa niente magari se c'è io non vabbè io non dico niente mega cassa niente mega cassa oh alleluia ragazzi me l'ha fatta penare me l'ha fatta penare me l'ha fatta veramente penare ragazzi 468 molete oh mega eccola qui new brawler assalta torari cioè mega ha due assetti da combattimento quello standard e uno più avanzato in cui sta a bordo del suo filo mecha o mecha i robot perde salute col tempo riceve cura ridotto una volta distrutto fa tornare a mega su assetto standard non male poi c'è un bonus che sono le raddoppi gettoni adesso ragazzi bisogna pomparla adesso bisogna pomparla il modo più veloce per pomparla è dargli i punti i punti esperienza per iniziare quindi ne ho prendeci punti esperienza 50 punti esperienza per mag ok poi 125 punti esperienza per mag 125 punti esperienza per mag 125 punti esperienza per mag e 100 punti esperienza per mag di certo così dovrei riuscire a portarla almeno almeno al 7 così le prossime casse se mi va bene posso trovare anche gadget livello 7 adesso con 8 oggettori proprio questa credo un po' che ce l'ho qua 61 megacassa 2 oggetti quindi mag o gadget assicurato o star power assicurata vediamo un po' mag per 189 ovviamente e gadget il gadget i power bank i power bank perché se il cellulare per caso si scarica abbiamo la ricarica rapida mi fa che giusto una volta attivato il gadget permette al match di ripristinare 450 punti salute al secondo per 5 secondi mica me le mapeer direbbe qualcuno odico io buono 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 diamone un'altra sberlina non posso lei le sberle scherzando quindi continuiamo a vedere se ho altri dovrei avere forse 1 barra 2 75 diamola a lei poi 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 basta ho finito le sì ho finito va bene va bene allora dai di certo qua ok buono dammi un'altra sberla oppure che non riesco a no oddio sai che è lì lì eh 140 no no ce la faccio ce la faccio non so se trovo la non so se trovo la star power però a livello 9 ce l'abbiamo adesso ho 3 megacasse per trovare la star power la vedo un po' due eh visto che ci ho messo addio grazie ma che botta le fortuna ragazzi hashtag scubrix is becco abitaste là il campo di forza di meg meg diceva uno scudo che riduce danni subiti del 35 per 20 per 30 seconds una volta che il match avviene distrutto bene 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 not bad not bad apriamoci anche l'ultima tanto ormai le ho aperte tutte ma che me frega c'è un po' di oro tanto non ne faccio assolutamente niente ragazzi meg con gadget e a vista di star stellare fatta non era ovvio avete visto che ho rischiato ma oscuro briggs ragazzi combatte sempre e vince alla fine fine ragazzi io vi ricordo di commentare se non vi piace con il video iscrivetevi a cappellina se volete che tornano in live su brostars in cui pushiamo fatelo sapere nei commenti buon saluto vi saluto e addio grazie ciao ciao ciao